Ben ritrovati, è il momento di uno speciale ricordo che arriva a poca distanza da un episodio che ha segnato la storia della musica mondiale, oltre che la vita di un suo grande rappresentante. Il suo nome infatti è John Lennon, e l'anniversario è quello della sua morte e del suo assassino avvenuto ormai 43 anni fa. La sera dell'8 dicembre del 1980, mentre rientrava al Dakota, al suo residence a New York, infatti John Lennon fu colpito da quattro colpi di arma da fuoco per morire poco dopo in ospedale all'età di 40 anni. A sparare, il giovane Mark David Chapman, un fan dei Beatles che solo poche ore prima gli aveva fatto firmare la sua copia del disco Double Fantasy. Ispirato, diceva lui, dall'Holden Caulfield, il giovane Holden Chapman rimproverava a Lennon il suo stile di vita facoltoso, nonostante predicasse l'opposto, e soprattutto non tollerava che i Beatles fossero, a sua detta, più popolari di Gesù. Il clamore e lo sgomento di questa morte risero l'assassinio, uno dei più famosi della storia, che è rivissuto in John Lennon, Murder Without a Trial, trasmesso in anticipo rispetto alla data dell'anniversario, esattamente il 6 dicembre, su Apple TV+. Il documentario, in tre episodi, è voluto ritornare sul tragico evento, dando però una nuova centralità alla figura di Lennon. Per la prima volta, infatti, figure centrali della sua vita, ma anche della sua morte, come amici, dottori, investigatori, condividono i loro ricordi su ciò che è accaduto quella notte e soprattutto dopo. A colpire, inoltre, è anche la portata dell'ultima intervista, mai rilasciata dal cantante musicista, descritto come uno dei più grandi attivisti per la pace che il mondo abbia mai visto, e rende ancora più atroce e inspiegabile la sua perdita. Il personaggio di Chapman emerge, ma solo nella misura in cui si ribadisce, come avesse cercato di portare attenzione su di sé, rubando la fama di qualcuno come John Lennon. La docuserie, dunque, è debuttata in un anno particolarmente vivace per quanto riguarda ricordi di Lennon e dei suoi compagni musicali. Solo poche settimane fa, infatti, è uscita Now and Then, la loro prima canzone inedita, da quasi 50 anni a questa parte, completata grazie all'intelligenza artificiale che ha colmato alcune lacune, partendo comunque dalla registrazione originale della band. Ne è stato tratto anche un documentario per fornire ulteriore materiale al vostro binge-watching, alla voglia di abbuffata televisiva, tema Fab Four di fine anno. E allora noi ripeschiamo adesso un brano iconico dalla svariata produzione di Lennon, di cui tra l'altro parleremo anche in occasione del Natale, con un'altra canzone. Questa volta, invece, le attenzioni vanno al Cold Turkey del 1969. Perché? Beh, perché è una delle dieci canzoni considerate tra le migliori dell'artista da suo figlio. Era contenuta, infatti, in una speciale raccolta uscita nel 2020, Gimme Some Truth, The Ultimate Mixes, un box set di 36 brani dalla carriera solista dell'ex Beatle, remixati dai master. La produttrice esecutiva era Yoko Ono Lennon e il produttore Sean Ono Lennon, nato lo stesso giorno di suo padre.